Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Mentre al nord Italia il tempo comincia a peggiorare per l'avvicinarsi di un'imponente perturbazione atlantica, al centro-sud l'alta pressione si rafforzerà e il tempo rimarrà stabile. Temperature miti e sole caratterizzano la giornata odierna, ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 14 settembre. Al mattino cieli soleggiati su buona parte dei territori. Durante il pomeriggio cieli poco nuvolosi, specie sulla Lucania e sul subappennino d'Auno, altrove invece sereno e clima gradevole. In serata permarranno i cieli sereni ovunque, con tassi di umidità elevati sul Tarantino. Temperature, come notiamo dalla grafica, risulteranno in rialzo, soprattutto nei valori massimi, con punte che toccheranno i 30 gradi tra Foggiano e Materano. Venti che si disporranno dai quadranti meridionali e soffrieranno tra il debole e il moderato. Mari poco mossi nei pressi delle coste, mossi invece a largo. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Luigi Marzo, che all'imbrunire ha immortalato lo spettacolo dei Monti Albanesi, ben visibili da Torre Sant'Emiliano nei pressi di Otranto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore ve la mandate in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.